Stai bene? L'ultima volta che sono stata qui era aperta. Diamo un'occhiata. Non si è rispettato. Dietro di me! Niente. Deve esserci sfuggito qualcosa. Le due sante materne riveleranno il cammino. È identica all'altra. Qualcosa mi dice che non sono solo decorative. Non si è vero. C'è un'occhiata. Mi sapevo. Sei ok? Non ti sei essere così. Dammit! Ora sì che ci siamo Ne ho abbastanza di indovinelli Andiamo Chiaro Leon, l'interruttore disattiverà queste stacke Ne ho abbastanza di questi tutti Non c'è tempo per questa roba Pensi che questo mi fermerà? Continuiamo Proprio così Non vorrei perdermi tutto in divertimento Proprio così Proprio così Ok, andiamo Proprio così Proprio così Proprio così Proprio così Sì. 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 Mi dispiace sparare agli oggetti antichi. Hai sentito? Sì. Spero fosse una porta. Andiamo. Sì. 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 Niente paura! Allontanatevi tutti! State lontani! Ce ne occupiamo noi! State lontanatevi tutti! State lontanatevi! State lontanatevi tutti! State lontanatevi tutti! State lontanatevi tutti! State lontanatevi tutti!